salve a tutti i ragazzi ben ritrovati per essere qui con me anche oggi il video sarà lungo perché spiegherò tutte le nozioni base per giocare a freccette la posizione il lancio l'impugnatura quindi spiegherò tutto attentamente in modo che avete tutto qui in questo video partiamo però dicendo che voglio ringraziare sabrina per aver contribuito al canale e ricordarvi la nostra partnership col negozio triploventi che lo trovate sia fisicamente a brescia sia online sotto le informazioni troverete anche il link al sito web e se vi iscrivete alle nostre pagine telegram avrete anche degli sconti su triploventi bulldozer dars dove scriviamo io e francesco per dirvi novità le cose più importanti bulldozer dars chat praticamente dove scrivete fra di voi discutete ma che freccia voglia che farci non voglio ma questa come va quella come va ma tutti li così ma tutti lì con la la chiusura così la chiusura con la e tutte queste cose qua poi c'è l'obiti il canale telegram riguardante il torneo online e l'obiti staff che praticamente è quello che usano i ragazzi per darvi le varie informazioni mano in mano il torneo poi abbiamo anche la pagina facebook che non ho ancora inserito qui ma sotto troverete il link ok detto questo andiamo a vedere cosa dobbiamo fare oggi bene allora cosa importante le basi per capire le cose quali sono le le cose fondamentali da sapere nelle fraccette ok andiamo a vedere la prima slide accendiamo anche la nostra fraccina prima cosa da sapere è la posizione dei piedi perché dietro la posizione dei piedi poi tutto il resto del corpo si sistemerà dietro la posizione dei piedi che ne abbiamo scelto nella nostra posizione quindi è fondamentale se stiamo in un modo stiamo nell'altro adesso vi farò vedere le varie posizioni che ci sono quindi la posizione dei piedi determina poi tutto il resto del corpo la posizione del braccio quello che deve fare il braccio in tutte le varie sfaccettature vi farò anche vedere un video che avevo già fatto ma vi farò vedere solo un spezzone per farvi capire questa cosa e 3 l'impugnatura questi sono i tre fattori fondamentali per giocare a freccette chiaro passiamo all'altra slide qui ci sono prima la nostra fraccina le quattro posizioni diciamo fondamentali riconosciute la prima è l'anteriore a due piedi cioè tutti i due piedi come vedete nel disegno appoggiati alla alla pedana questa questa posizione è poco usata anzi non ho mai visto nessuno usarla onestamente però visto che c'è io ve l'ho detta lo stesso poi la seconda è quella anteriore per capirsi è quella di gary anderson il vostro piede migliore cioè nel senso che usate o il destro o il sinistro dipende se siete mancini o meno io che sono destro metterò davanti il piede destro avanti e il piede posteriore leggermente indietro ma poi ho fatto un video vi faccio vedere tutte le posizioni dettagliate prima vi spiego quali sono e poi ve le faccio vedere posizione 3 è quell'angolare quella di van gervan e phil taylor hanno un'angolatura l'angolatura può cambiare dipende dal nostro corpo da come siamo messi con la schiena con le spalle può cambiare leggermente l'angolatura no cioè questa è la barra e la nostra angolatura può cambiare leggermente dietro la nostra il nostro corpo infatti van gervan siamo molto molto angolato e anche phil taylor che certe volte il te lo sembra quasi che sia laterale però vedendo tante foto e vedendo anche la foto di prima è molto angolato ma non laterale laterale invece quando voi mettete il piede appoggiato totalmente così sulla pedana poi ci sarà video che lo vediamo ed è come peter wright detto questo queste sono quattro posizioni andiamo a vedere la slide successiva qui abbiamo phil taylor vedete come tiene il piede phil taylor vedete che non è proprio appoggiato sulla sulla pedana ma è leggermente è molto angolato magari ma non è appoggiato a differenza di peter wright che il piede sbatte proprio sulla sulla pedana piede posteriore leggermente alzato per entrambi vedete qua alzato leggermente sono tutti e due leggermente piegati verso il davanti poi ve lo farò vedere perché il peso va messo tutto sulla gamba anteriore va buttato il peso e il piede posteriore fa da equilibra il nostro corpo lo tiene perfettamente dritto quando noi lanciamo la nostra freccia vi faccio vedere anche gli altri due qui così sempre con la nostra freccina vedete van gerwen molto angolato piede posteriore quasi dietro il piede davanti che sembra quasi laterale però lui è sempre molto 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 angolato ma non un laterale invece qua abbiamo il nostro gary anderson che praticamente tiene la punta dritta poi nel video che vi farò vedere capirete bene tutte le posizioni perché ve le faccio vedere esattamente perfettamente bene tutte fatte bene ok questa è la posizione di tiro questo è il centro del burrosso questa è la punta dove del piede praticamente qual è la differenza io che sono ho l'occhio sinistro dominante perché una cosa importante da sapere è l'occhio dominante se c'è l'occhio che mira se vuoi chiudete un occhio ok io miro con questo non miro con questo chiaro miro col sinistro quindi la punta del mio piede sarà esattamente sul centro del bersaglio se invece sono destro la freccia facciamo conto che questo va si sposti verrà a metà del mio piede poi adesso lo vediamo nella slide successiva nella posizione di phil taylor vedete a metà della gamba praticamente il mio centro sarebbe questo qua qui sarebbe il mio centro io che sono sinistro e invece lui che a destro è a metà del suo piede guardate qui in questa posizione il suo piede molto angolato qui sembra quasi laterale schiena dritta vedete tutto il peso su questa gamba schiena dritta il ginocchio è praticamente scusate il gomito è praticamente in linea con la metà della della sua gamba come potete vedere è leggermente spostato qua c'è la sua mano perché in fase di carica quando lancerà essendo il gomito qui la sua mano si allungherà su questa linea non so se mi sono spiegato qui è la sua impugnatura che poi vedremo più dopo ok questo penso che sia tutto quello che dovevo dire su questa cosa andiamo avanti questo serve a sistemare l'angolatura ad esempio questo è spiegato molto bene nel video che ha fatto bus un paio di giorni fa comunque si chiama bus anselberger come sistemare la linea di tiro se noi tiriamo tutto sul 5 in questo caso bisogna vedete spostarsi invece che 45 gradi di far diventare 53 gradi cioè spostarsi in questo in questa versione qua vedete la freccia dove indica raddrizzare il nostro corpo e le frecce andranno dritte lui lo fa vedere molto bene nel video che ci ha mandato invece qui se noi tiriamo tutto all'uno giriamo andiamo verso di qua il contrario di prima chiudiamo la nostra angolatura 37 per cento qua è scritto ma insomma e le frecce andranno dritte questa è una cosa molto importante da capire ok ma intanto andiamo al resto adesso vi mando il video che ho fatto sulle varie posizioni vi faccio vedere come vanno fatte queste cose qua quindi state lì andiamo a vedere la posizione anteriore a due piedi posizione non molto usata vedrete sotto la linea del bull centrale che sta esattamente a metà delle mie gambe no poi metterò la riga noi gireremo leggermente il corpo il nostro braccio sarà in questa posizione carichiamo e lanciamo ok questa posizione è usata pochissimo praticamente nessuno la usa io non ho mai visto nessuno posizione posizione anteriore alla gheri anderson posizione il nostro piede anteriore dritto leggermente il piede il peso va messo sulla gamba piede dietro leggermente esterno non deve stare troppo aperto non deve stare troppo chiuso ma deve stare dove trovare l'equilibrio giusto posizione dritta in questa posizione il braccio non sarà così come nelle altre ma sarà così avrà questa forma di triangolo qui ok questo è come lancia gary anderson ad esempio io l'occhio sinistro quindi la mia mano può stare benissimo qui ma per chi ha l'occhio destro deve stare leggermente più a lato a lato dell'occhio per non coprire l'occhio di mira l'occhio dominante quindi stare attenti alla posizione delle gambe mai fare questo movimento qui quando si lancia se ne facciamo ok sempre appoggiati fermi rilassati il nostro braccio fa tutto il nostro braccio impostiamo le gambe peso sulla gamba anteriore peso posteriore da equilibrio fa da equilibratore leggermente alto il piede poi dipende da persona a persona può essere un po più basso un po più alto ma dobbiamo trovare noi la giusta inclinazione e fino qua mi sembra giusto posizione anteriore alla gary anderson vediamo adesso la posizione ad esempio la van gerwen angolata allora qui il tipo di angolatura del piede davanti dipende dal nostro corpo no può essere molto angolata come quella di van gerwen che in questo modo che può sembrare laterale ma non lo è perché è molto angolata e lui sta in questo modo dritto con le schiena vedete alzo il braccio carica e lancia ok adesso sono fuori della mia della mia versione io tengo il piede leggermente quasi dritto il mio piede questo qua sta la chiaro metterò il braccio in questo modo e lancio chiaro invece tipo van gerwen che tiene molto più angolato il piede posteriore chiaramente andrà dietro vedete come in questo modo chiaramente cambiando angolatura si sposta anche il piede no in questo modo ok dipende dalla nostra postura del braccio del corpo perché non siamo tutti uguali quindi leggermente cambia quando noi troviamo la nostra giusta posizione di tiro non abbiamo più problemi chiaro spero di questo mi spiegato quindi noi partiamo sempre guardate sempre il bersaglio non guardate per terra non guardate niente voi dovete sempre guardare il centro del bersaglio arrivate angolare posizione e tirate leggermente aperto qui leggermente angolare questo cambia poi l'angolatura poi questa cosa la vedremo più avanti ultima posizione che è quella laterale allora quella laterale è molto buona per certi motivi ne posizioneremo il piede in questo modo il piede dietro sarà sempre in questa posizione qua vedete che scompare perché dietro sempre nella stessa posizione però dietro qui dobbiamo stare attento a lavorare con la se ne siamo così girarsi ad essere perfettamente con la schiena dritta qua ok opp io faccio molta fatica a fare questo perché ho una certa età e tenere in questo modo la schiena mi fa male però per uno che è giovane non è un problema carichiamo il braccio e lanciamo vedete io faccio moltissima fatica in questa posizione però diciamo che quella che potrebbe essere tra virgolette quella più corretta perché la posizione del piede tipo Peter Wright usa questa appoggio il piede totalmente così sulla sulla pedana quindi il posizionamento è sempre lo stesso non è come l'angolatura che può variare leggermente e poi costringe il nostro corpo a stare in quella posizione quindi più in là di così il nostro braccio non va ok quindi noi faremo sempre questo movimento qua però io la schiena ce l'ho già a pezzi quindi questa è una cosa per chi non ha una certa età come me magari se uno è abituato non va male ma io ho già 30 secondi così sono a pezzi ma non è è perché sono io insomma sarebbe giusto questa quindi così sarebbe molto giusto questa però io la schiena in questo modo non riesco a tenerla perché faccio fatica non riesco ad essere rilassato col corpo perché è una posizione una cosa fondamentale che dobbiamo sapere in qualsiasi modo noi ci mettiamo che sia così anteriore alla Gary Henderson che sia laterale alla Van Gerwen anche alla Phil Taylor sono molto laterali loro ma non sono laterali sono molto angolati ma non laterali perché non appoggiano tutto il piede in questo modo ma ce l'hanno così però lì cambia da persona a persona come tenere l'angolazione quella anteriore a due piedi praticamente non la usa nessuno e non mi sembra neanche chissà che ho fatto riassunto di tutto mi sembra di sì quindi in ogni posizione comunque stare molto molto rilassati le spalle adesso poi vedremo nel video andando avanti le spalle rilassato il corpo il peso scarica tutto sul piede davanti cercare di non chinarsi troppo in avanti per non caricare troppo il peso sul ginocchio e avere dei problemi al ginocchio quando si gioca tanto quindi la posizione giusta e bisogna trovare l'equilibrio e la cosa fondamentale è cercare di essere nella posizione in cui noi ci sentiamo più a nostro agio quindi ognuno poi può trovare la sua posizione quella della Gary Henderson che in questo modo quella della Van Gerwen che lui sta anche un po' il creato in avanti in questo modo o quella anche la Peter Wright che sta così ok ma sempre rilassare questa posizione faccio fatica perché la zona qua dietro mi si spezza ma perché sono io ragazzi eh voi se siete giovani potete tranquillamente fare questa cosa chiaro? rilassati rilassare il corpo è la cosa fondamentale tra un tiro e l'altro mi raccomando non bisogna essere tesi le spalle tutto così e controllare il respiro è solo il movimento del braccio poi lo vedremo nella prosecuzione del video ok spero che voi abbiate capito molto bene la posizione adesso andremo a vedere il lancio il braccio la seconda cosa che dobbiamo sapere partendo da qui ok Phil Taylor praticamente cosa fa? ha un punto di mira cioè dove si mette a mirare poi va a caricare la freccia come vedete voi qua va fino sulla bocca e poi rilascia la freccia questo è il terzo punto quindi lui mira carica e lancia ok questo è il punto più o meno dove lui lascia le frecce dove allarga la mano allarga la mano e fa andare la freccia occhio perché le dita sono fondamentali poi vedremo nell'impugnatura comunque lasciare bene la freccia è fondamentale perché le dita possono dar fastidio e fare andare la freccia così eccola quindi lasciare bene la freccia quando noi diciamo così hop lasciare aperta in maniera che la freccia parta e non ci sia nessun tipo di problema andiamo a vedere le varie posizioni allora a differenza di Phil Taylor che prende il punto di mira il punto di mira di Gary Anderson e anche quello di Van Gerwen non è come Phil Taylor che si mette lì mira poi carica poi lancia chiaro? ma cosa fa? tira sul braccio fino al punto di carica mira e lancia quindi lui è come se caricasse e lanciasse senza avere il punto di mira come a Phil Taylor vedete lancia braccio una cosa importante lasciarlo andare lungo vedete sia Phil Taylor sia Gary Anderson sia Van Gerwen lanciano tutti nello stesso modo il braccio lo lasciano andare lungo e vedremo anche dopo Peter Wright e quindi una cosa fondamentale gomito alto ma poi ve lo faccio vedere nel video che verrà dopo gomito alto se avete il punto di mira come fa Phil Taylor mirate poi caricate e lanciate se invece volete fare come Gary Anderson o Van Gerwen voi caricate il braccio e lanciate il punto di carica è esattamente il punto di mira per loro due altra cosa da far notare è che il braccio di Gary Anderson sta dritto vedete quello di Phil Taylor uguale quello di Van Gerwen invece se guardate bene questa parte qua questa parte qua sembra quasi spezzato cioè io più di così non riesco a girarlo invece lui vedete che va oltre cioè dovrei spezzarmelo io per andare come fa lui andiamo a vedere come fa Peter Wright questa cosa lui ha invece il punto di mira come come Phil Taylor carica lateralmente alla bocca perché vedete che piega la freccia e poi rilascia la freccia anche lui vedete lascia andare tutto il braccio completamente una cosa importante cercate di non bloccare il braccio ok cioè di lanciare la freccia tutta intera ma vi faccio vedere nel video di dopo e non fare op op così non questa roba qui no l'ho spiegato molte volte ma lasciare andare tutto il braccio lungo perché vi permette di avere sempre lo stesso punto se invece voi lasciate la freccia qui e fermate il braccio sarà sempre diversa la vostra metrica ok la vostra scalatura invece se voi lasciate andare sempre il braccio sempre tutto lungo è meglio io ho avuto molti problemi su questa cosa perché molte volte non lo lascio andare tutto lungo io a differenza vostra non avevo nessuno che mi spiegasse bene queste cose sto cercando di sistemarla adesso questo è il succo del discorso quindi cercate di stare attenti a questa cosa detto questo adesso vi lascio al video del braccio vi metterò anche un piccolo eh spezzone di un video che ho fatto un paio di una settimana fa credo dove vi spiego una cosa fondamentale sulla posizione del braccio del gomito scusate del gomito e visto che era venuto molto bene ve lo aggiungo qui un pezzettino giusto per farvi capire la posizione del gomito e poi eh quando torneremo poi parleremo del impugnatura state lì ok andiamo a vedere adesso eh come bisogna comportarsi col braccio ok noi ci mettiamo nella nostra posizione qualsiasi posizione sia il succo del braccio è sempre lo stesso bello alto dritto il il braccio qua il gomito deve stare dritto ok rimetto perché parlando carico allungare sempre il braccio è fondamentale è fondamentale stare bene mai fare questa cosa qua ok mai abbassare mai alzare troppo e fare così come ho visto fare un due volte ok adesso è andata fuori la freccia lì dritto il braccio qua rilassare caricare e lanciare ok questa cosa qua quindi posizione le spalle rilassate ricordate sempre di rilassare le spalle il braccio deve stare sempre in questa posizione rilassata se voi siete eh con l'occhio sinistro tenete l'occhio qua ok libero libero l'occhio che mira deve sempre stare libero io ce l'ho leggermente sotto l'occhio destro no se avete l'occhio destro ehm come occhio dominante la freccia starà leggermente a lato in questo modo voi mi metterete così e farete questa cosa qua sarete in questa posizione qui e lancerete così fuori dall'occhio se invece siete sinistri come me potete benissimo tenerla qua sotto praticamente cambia di così a così dipende se siete mancini ehm è la stessa cosa fondamentalmente è la stessa cosa solo invertita quindi sul braccio in questo modo caricare e lanciare in questo modo qua cercare di tenere sempre il braccio nella stessa posizione allungare sempre il braccio tutto non fare così o così cioè così o scatto o o invece deve essere tutto allungare il braccio in questo modo questo è quello che bisogna sapere sul braccio mi raccomando allora prima vi faccio vedere il tiro allora prima vedete tiro al 20 doppio al bull e al 3 ok quindi vediamo dettagliatamente al 20 quando tiro al 20 vedete sulla linea qui sulla linea sono sopra alla riga ok tiro questa freccia essendo più alto vado a tirare al bull e quando tiro al bull sono perfettamente sulla linea poi vedremo che faccio anche 3 tiri sul bull e il mio gomito è sempre in questa posizione qui e poi vado a tirare sul 3 vedete che sono sotto la riga quindi più o meno qui sul 20 doppio bull 3 quindi alzo e abbasso il gomito di pochissimo perché è pochissimo però non so dal 20 doppio al 3 doppio potrebbero essere boh 5 centimetri di poi se voi guardate alla fine vedete il primo il il 20 doppio il 3 doppio l'ho preso questo qua ha sbagliato di poco quindi per cui la posizione è la giusta bene qui faccio 3 tiri al bull ok allora analizziamo questi tiri ho lasciato anche gli errori perché è importante capire anche negli errori andiamo a vedere il primo tiro guardate il braccio dove è dove si trova nella fase di carico sotto la bocca praticamente metto la freccia qua nel carico il braccio è praticamente sulla riga tiro è leggermente basso vado a tirare il secondo vedete che è più o meno come prima caricato un quasi uguale vedete lì parte la freccia e sono perfetto e va più o meno va leggermente più alto perché confronto a quello di prima ero leggermente più alto sulla riga non mi ricordo se è entrata o no perché non si capisce da qua comunque è sicuramente in linea col rosso anche se è sul verde è sempre in linea sul rosso l'altra era leggermente sotto il rosso la terza guardiamo la terza questa è la seconda la terza vedete più o meno sono sempre lì ma ho sbagliato qualcosa perché mi sono mosso vedete che mi sono mosso con tutto il corpo a differenza di prima che sono rimasto fermo guardate la prima freccia il mio corpo sta praticamente quasi fermo anche nella seconda e invece nella terza mi muovo con la schiena e la freccia va a prendere sul pantano in giro qui ho fatto 140 ok quindi due frecce perfette e una praticamente attaccata giusto sotto analizziamo frammento per frammento allora vado a tirare la prima vedete sopra il carico del braccio vedi io vado a caricare lancio vedete sempre la solita posizione venti triplo guardate dove è il braccio guardate sempre uguale e va leggermente più bassa per chi si vede che l'ho mollata leggermente dopo l'ultima guardate sempre quella posizione lì tiro e va lascio andare tutto il braccio e va dentro bene ragazzi vediamo di finire questo video con l'impugnatura questo è l'ultimo argomento di questo video e vediamo subito la prima slide allora facciamo così allora con due dita cioè presa la freccia così è lanciata ok presa in questo modo è lanciata con due dita mettendo praticamente il dito sotto così ma sarebbe così con due dita no? c'è qualcuno che tira con due dita poi ci sono quelli a 3 come me cioè questo dito qui va a bilanciare la punta e le altre due dita tengono qua in questo modo poi c'è quella a 4 che è pressoché così ok? adesso andiamo a vedere i campioni come reggono diciamo che questa è la regola principale meno dita ci sono sulla freccia meglio è però lì sta tutto a noi trovare qual è la nostra posizione migliore questo è Raymond van Barnavel come vedete lui praticamente tiene l'indice a carezza e usa praticamente un dito molto attaccato qua e l'altro dito qui e lancia in questo modo vediamo se riesco a farvi vedere così con la presa anteriore come potete ben vedere non ce l'ha la posteriore c'è l'anteriore lui questo è Simon Waylock che lui la tiene praticamente in questo modo ok? tante dita sulla mano così vediamo così circa adesso è difficile farvi vedere così poi c'è Van Gerwen che tiene tutto piegato il polso e tiene indietro il pollice in questo modo le altre dita l'indice chiaramente più avanti io non so come faccio a tenere la mano così comunque questo più o meno guardate lì come la tiene lui no? a quattro dita praticamente meno sembra quello questa è quella di Peter Wright che è così normale classica tenuta a quattro dita e poi c'è Phil Taylor che la tiene a tre dita così ma anche lui piega il pollice queste sono trovate voi poi qual è quella che vi che vi fa stare più comodi nel tirare se avanti cioè se anteriore è qui centrale è qui e posteriore è qua dietro ok? dipende di tutto da dove preferite lanciare la freccia a voi e dove vi sentite meglio questa è una cosa estremamente personale sotto il mio punto di vista meno dita ci sono sulla freccia meglio è perché tipo se io facessi così può essere che qualche dita vada a sbattere la freccia si muova quindi io tendo a prenderla con tre dita in questo modo due dita tengono la freccia qua e questo qua equilibra la punto detto questo sta a voi spero che questo video molto lungo vi sia piaciuto e vi siate divertiti con me ma ci sono milioni di video da poter andare a vedere sul canale dove spiego gli esercizi dove spiego la messa appunto della freccia come va calibrata quando si comincia a tirare per avere la giusta angolazione c'è di tutto su questo canale sulle fraccette quindi andate a vedervi video sulle playlist sulle cose e diciamo saluto a tutti